Vabbè, ovviamente questo spettacolo sarebbe stato nullo, sarebbe... Questi ragazzi che sono dietro le mie spalle... Gli ho fatto una proposta alla fine, vabbè più o meno... Hanno creduto in questo progetto, signori e signori... Incominciamo... Incomincio da là, è lui più tranquillo, è più... Incominciamo... Dai a pianoforte e tastiere, signori e signori... Arriva da Torrevecchia a Tiatini... Mister Simone Berciano! Mi sono dovuto portare anche un vocabolario dei sinonimi e contrari... Perché ogni sera... Ogni sera dico qualcosa di diverso... Stasera non devo sbagliare se non mi si arrabbio veramente tanto... E' il più maturo della compagnia... Non è più anziano! Adesso mi sono portato pure nel club... Mi sono portato... Mi sono portato... Mi sono portato... Mi sono portato... Signori e signori... Sempre alla via destra... Al basso... Arriva da Lanciano... Mister Alfredo degli Innocentisti! Mi sono portato... Portato... e stasera mi paghi due a me delinquente vabbè parliamo con loro con lui uso sempre lo stesso aggettivo e il maresciallo della compagnia sta là bello preciso suona la classica banduta voi mi dite quello che devo fare e io lo faccio signore e signori anche lui arriva da Lanciano chitarra elettrica e chitarra classica mister Vito di Virgilio grazie maestro dietro le mie spalle loro ho 78 mesi lui è un po' di anni che sta ancora là ancora non si arrende ha suonato le percussioni ha suonato la chitarra ho sbagliato ho detto la classica l'acustica comunque ha suonato la chitarra è la stella diciamo la prossima sera che cavolo vuoi tu stanzi cori percussioni in arra acustica ma soprattutto è la regia di tutto questo spettacolo è colui che ha incastrato queste 54 canzoni che noi abbiamo scelto per voi signore e signori arriva da San Salvo mister Auro Senti Auro Senti è un pericolo ogni sera presentarlo perché se si arrabbi comincia a battere la batteria in una maniera strana comunque in ogni gruppo che si rispetti c'è quello che capisce il vino c'è quello che capisce le creme c'è quello che capisce tutto il mangiare che c'è sulla faccia della terra e si vede signore e signori lui invece è sulle navia e sul suo viso c'è la cosa più bella del mondo il sorriso ce l'ha dalla mattina alla sera 24 ore su 24 oltre al sorriso c'è pure la parecca di capetti signore e signori arriva da Mano Bello alla batteria Antonio ciao 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 zu ciao bo Sì, Antonio, un grande applauso per questi musici!